Come forse sapete il processo trattativa Stato mafia si è chiuso con un'assoluzione, i tre gradi di giudizio hanno portato appunto a tre pronunce molto diverse l'una dall'altra, una di condanna la prima, condanne tra l'altro esemplari, e la seconda e la terza di assoluzione ma con formule assolutori diverse. Quello che è importante ribadire è che l'esistenza, la sussistenza della trattativa Stato mafia non è stata mai smentita neanche da queste sentenze di assoluzione, anzi noi abbiamo delle sentenze passate in giudicato, se qualcuno vuole approfondire consiglio della sentenza tagliavia, che ci dice non soltanto che la trattativa Stato mafia, quella iniziata dai Ross ci fu, ma anche che instillò nella mente dei vertici di Cosa Nostra la convinzione che la strategia stragista pagasse. Ecco che arrivano le stragi del 93, che abbiamo citato poco ma che sono fondamentali per capire quello spaccato, anche poi per capire quello che succede politicamente nel 94, stragi nel 93 nella cui cornice muoiono anche due bambine, due civili oltre ad altri otto adulti, vittime di cui nessuno parla, e invece bisogna dare voce anche a queste vittime. Quando è venuta fuori la sentenza di assoluzione, i principali giornali italiani, e mi riferisco a organi vicini alla destra e vicini alla sinistra, mondo conservatore e mondo progressista, si sono trovati uniti in questa battaglia, si leggevano titoli, e cito testualmente del genere, la trattativa non c'è stata, gli imputati sono innocenti, i PM forse no, Stato mafia è la trattativa che non c'è mai stata, tutti assolti, la trattativa Stato mafia non è mai esistita, adesso è ufficiale, la trattativa Stato mafia non c'è mai stata, e via così, un sistema mediatico vergognoso. Ma non ci si è fermati alle dichiarazioni, ai titoli del sistema mediatico. Matteo Renzi ha twittato, il 27 aprile 2023, sulla presunta trattativa Stato mafia, oggi è arrivata la sentenza definitiva della Cassazione. Assoluzione per non aver commesso il fatto, i giustizialisti di certe procure e di certe redazioni come quella del Fatto Quotidiano dovrebbero scusarsi o al massimo tacere per qualche anno, non lo faranno perché non conoscono il significato della parola vergogna. Evidentemente lui la vergogna riesce a vederlo ogni mattino quando si guarda allo specchio. Matteo Salvini, appoggio di cuore la proposta avanzata dal riformista, anni di accuse infondate, calugne e sofferenza non potranno essere cancellati. Parla dell'iniziativa di nominare Mario Mori, senatori a vita, ma l'onore e la riconoscenza al generale all'arma da sempre in prima fila nella lotta alle mafie devono essere tributati. Meloni, è stata fatta giustizia, penso che quello sia stato un processo politico, che non fosse quello il filone da seguire, per verificare eventuali trattative tra lo Stato e la mafia, è stato un tentativo di aggredire alcuni pezzi dello Stato. Lascia basiti che ci siano voluti 15 anni per arrivare a una sentenza che fondamentalmente assolve tutti. Il 19 gennaio del 2018, quando era in scena la requisitoria al processo trattativo a Stato-mafia, la Meloni difendeva i PM. Sono passati soltanto pochi anni, tre anni, nel giro di tre anni è cambiato il vento ed è cambiata anche ovviamente la prospettiva sul processo di cui viene persino criticata l'istituzione e la durata, come se si parlasse di una banale lite condominiale, non della trattativa tra Stato e Cosa Nostra che metteva a ferro e fuoco il Paese. Vi dico soltanto l'ultima cosa, mi prendo un minuto, nel maggio del 2024 l'ex generale del ROS Mario Mori, nonché ex numero uno dei servizi segreti, è stato indagato dalla procura di Firenze nell'inchiesta sulle stragi del 1993. È indagato per strage, associazione mafiosa, associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell'ordine democratico. Io mi auguro per lui umanamente che sia innocente, c'è un'inchiesta aperta con accuse incredibili, molto molto pesanti, perché Mori non avrebbe impedito, dice la procura, mediante doverose segnalazioni o denunce, ovvero con l'adozione di autonome iniziative investigative o preventive, gli eventi stragisti di Firenze, Roma e Milano, di cui aveva avuto plurime anticipazioni, ce le ha avute da Angelo Sino, dice la procura, ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, e da quel Paolo Bellini condannato per la strage di Bologna. Come ha reagito il governo di centrodestra a questa notizia? Maurizio Gasparri ha sollecitato il ministro Nordio a inviare gli ispettori alla procura di Firenze. Il sottosegretario, e chiudo, alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ha accolto in pompa magna Mario Mori a Palazzo Chigi manifestandogli, cito tra virgolette, vicinanza di fronte alle contestazioni che gli vengono rivolte. Abbiamo un sottosegretario di Stato, tra gli uomini più fidati della Premier Meloni, che accoglie a Palazzo Chigi Mori, indagato per concorso in strage, con aggravante della finità mafiosa e terroristica. Io credo che siamo un paese vergognoso.